Buongiorno a tutte e a tutti. Il tema che discuteremo con tre ospiti illustri è quello della sicurezza e difesa, la formazione di oggi per la cooperazione di domani. Un argomento importante e delicato e a Torino esiste una realtà unica nel suo genere che opera proprio nell'ambito di questo tema. Buongiorno professore, buongiorno generale e buongiorno professoressa. Grazie per la vostra disponibilità. Vi chiedo gentilmente di presentarvi e indicare il vostro ruolo all'interno dell'Università di Torino e del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito. Sono Edoardo Greppi, professore di diritto internazionale nel Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino. Nella stessa università sono anche Presidente della Scuola Universitaria e Interdipartimentale di Scienze Strategiche e poi sono anche Presidente dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, un ente che organizza corsi di formazione di diritto internazionale dei conflitti armati, di diritto internazionale dei rifugiati, di diritto internazionale delle migrazioni e di diritti umani. Buongiorno, sono il generale di divisione Salvatore Cuoci, comandante del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito, con sede nella città di Torino. È un comando deputato alla formazione di tutti gli ufficiali dell'Esercito italiano, mediante sia studi universitari che possono meglio caratterizzare la professione militare, sia studi professionali. Non a caso il Comando è a Torino, la prima capitale d'Italia, dove la maggior parte delle istituzioni tra cui l'Esercito sono nate, ma anche perché a Torino si è potuta creare una perfetta joint venture tra il mondo universitario e il mondo militare. L'Università di Torino è un'eccellenza e per questo è riconosciuta tra le top five mega università italiane, secondo l'ultimo rapporto annuale del Censis. Sono Marina Nucciari, sono professore di sociologia al Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche dell'Università di Torino e mi occupo da molti anni di ricerca sociologica sulle organizzazioni militari e nelle organizzazioni militari. In particolare insegno sociologia militare nei corsi della Scuola Universitaria di Scienze Strategiche e sono attualmente presidente dei corsi di laurea e di laurea magistrale in Scienze Strategiche. Professore, in questi ultimi anni il tema della sicurezza e della difesa è diventato sempre più importante e riguarda tutti i cittadini. Come stanno cambiando gli scenari e come possiamo prepararci? Difesa e sicurezza sono oggi componenti molto importanti della vita degli Stati, della vita di relazione internazionale e della cooperazione tra gli Stati stessi. La fine dell'epoca della contraposizione globale ha visto emergere una nuova realtà molto più complessa, più articolata, una realtà fatta di sfide e di minacce che sono genuinamente globali e che richiedono conoscenze e competenze molto particolari per essere affrontate in maniera efficace. Dicevo, la fine dell'era delle contraposizioni globali ha fatto emergere soggetti che entrano in una dinamica di relazione molto più complessa di quanto lo fosse in un mondo più schematico come era appunto quello delle relazioni internazionali tra due grandi blocchi contrapposti. Pensiamo anche alle mutazioni che hanno subito le grandi organizzazioni internazionali, la cooperazione multilaterale sia a livello universale sia a livello regionale europeo. Nel campo della difesa e della sicurezza abbiamo ovviamente la Nato, abbiamo l'Unione Europea, abbiamo l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Bene, già un secolo fa, oltre un secolo fa, Luigi Einaudi additava tutti i rischi che scaturivano dal mito dello Stato sovrano. Oggi questo mito è ancora vivo ed è sempre più un mito in un mondo nel quale l'economia, il commercio, la finanza sono globali, nei quali il terrorismo è internazionale per definizione, nel quale l'ambiente e il clima pongono sfide di portata universale, le migrazioni sono un fenomeno globale, internet e le comunicazioni sono una realtà internazionale e, come abbiamo visto di recente, un'epidemia può rapidamente diventare una pandemia. Ecco, tutto questo pone al mondo delle relazioni internazionali, al mondo delle professioni, delle sfide particolarmente impegnative. Generale, quali sono secondo lei le sfide più importanti nell'ambito della sicurezza a cui dobbiamo rispondere tutti insieme in questo momento di cambiamento globale? È indubbio che il mondo sia decisamente cambiato negli ultimi 30 anni. Sono state risolte molte sfide importanti, come il concetto bipolare. Il cambiamento però ha registrato anche fenomeni nuovi, ad impatto globale, non sempre positivi, come il terrorismo religioso, la proliferazione di crisi regionali. L'aumento di minacce richiedono nuove e più complesse forme e modalità operative. In questo scenario di crescente instabilità, il rafforzamento della cooperazione tra le forze armate, tra i Paesi e tra le organizzazioni internazionali rappresenta l'imprescindibile punto di riferimento per assicurare al Paese la necessaria cornice di sicurezza, con la ferma volontà di evitare lo spillover delle crisi e ristabilire la pace. La crisi che stiamo vivendo, inoltre, ha ulteriormente aggravato contesti già complessi sotto il profilo economico e sociale. La sua imprevedibilità e l'impatto globale che ne è derivato sono stati così imponenti da richiedere uno sforzo complessivo dell'intera società e la mobilitazione di tutte le strutture dello Stato. Questo ha imposto ancora una nuova modalità di formazione, più votata all'internazionalizzazione e alla capacità predittiva dei fenomeni. Caratteristica importante e imprescindibile di ogni buon soldato è la comprensione del mondo e a tal proposito qui, alla Scuola d'Applicazione, insieme all'Università di Torino, abbiamo realizzato un percorso formativo capace di rispondere efficacemente ai cambiamenti a cui stiamo assistendo e fornire gli strumenti per l'analisi dei fenomeni e per la risoluzione dei problemi. I nostri ufficiali fin da subito devono essere preparati ad adempiere il loro dovere, ben consapevoli che in ogni contesto le decisioni prese devono essere decisioni responsabili, più aderenti possibili poi alle esigenze del momento. Sicuramente al giorno d'oggi gli scenari sui quali siamo impegnati sono molteplici e diversificati. La capacità di adattamento consolidata da ottima preparazione e motivazione ci permettono di assolvere con rapidità ed efficacia il nostro dovere, per il bene poi della collettività. Ogni nuovo scenario che ci troviamo ad affrontare rappresenta per noi una sfida che non possiamo permetterci di perdere, perché è il nostro paese che ce lo chiede e la comunità internazionale che ce lo chiede. E anche in quest'ultima emergenza l'esercito ha dimostrato di essere una realtà e un'istituzione reattiva e adattiva. E questo iter di studi rappresenta un'ottima opportunità per attingere in modo trasversale a varie materie e ai vari dipartimenti per contribuire così alla formazione di quello che oggi è riconosciuto il miglior pisciper al mondo, capace di operare nell'ambito di crisi internazionali senza nulla togliere ad altri paesi, ai eserciti di altri paesi. Questo è sicuramente il risultato di una proficuazione combinata con l'Università di Torino alla quale siamo molto grati. Professoressa, la cultura della cooperazione va sviluppata. Saper cooperare significa saper condividere obiettivi, mettere insieme competenze differenti. Come si può sviluppare questa cultura? La cooperazione. La cooperazione non è un insieme di buoni sentimenti, è una competenza che quindi deve essere acquisita. Se c'è un atteggiamento favorevole sul piano emotivo, questo può aiutare, ma occorrono delle conoscenze, delle skills adeguate, perché la condivisione degli obiettivi, soprattutto tra soggetti istituzionali diversi tra loro, come possono essere le organizzazioni governative, le forze militari, le forze politiche e soggetti privati come le imprese o come le ONG di vario tipo. Una cooperazione tra tanti soggetti così diversi deriva da processi di negoziazione che non si improvvisano e anche da capacità di comprensione reciproca. Allora queste capacità si fondano inevitabilmente su delle conoscenze che richiedono studi diversificati, addestramento e esperienze, esperienze varie, esperienze prolungate. Allora il modello formativo dei corsi di laurea in scienze strategiche offerti dalla Swiss è la formazione che vede insieme studenti militari e studenti civili e mira proprio a creare queste competenze che derivano dalla frequentazione reciproca tra persone che mirano a acquisire delle capacità professionali in parte simili, in parte differenziate ma complementari e soprattutto nel momento della formazione, negli anni della formazione, la condivisione dei tempi di studio e di attività e quindi quello che accade prima delle lezioni, durante le lezioni, dopo le lezioni, le discussioni, da punti di vista che possono anche essere, anzi meglio se sono diversi tra loro, aiuta a reciprocamente capirsi e quindi anche integrare le rispettive necessità. Quindi aiuta effettivamente a creare una mentalità cooperativa che però non è soltanto una mentalità, una propensione ma è anche una capacità guidata da conoscenza. Quindi la cooperazione si fonda sulla capacità e sulla acquisizione di competenze specifiche e sulla pratica di queste competenze. E allora questo ambiente è un ambiente che in effetti favorisce proprio tra i diversi aspetti ovviamente di formazione che offre questo tipo di formazione di tipo potremmo dire personale. Queste soft skills che diventano effettivamente un pacchetto di abilità molto utili nei contesti articolati, complessi, spesso imprevedibili, molto cangianti e improvvisamente mutevoli che caratterizzano la nostra epoca e quella che abbiamo davanti. Professore, lavorare con partner europei o di altri paesi stranieri è sempre più frequente in teatri operativi internazionali. Come si può facilitare questa nuova realtà? La complessa realtà contemporanea ci chiede dunque di formare delle classi dirigenti capaci di governare questa complessità, capaci di governare una realtà multiforme fatta di un'interazione molto articolata di soggetti, di problemi, di sfide, di minacce. E con questa è, riteniamo oggi, la vera grande sfida della formazione che deve essere nella nostra prospettiva orientata a una forma di genuino ambito di scienze strategiche. Per questo noi facciamo formazione per gli ufficiali allievi dell'esercito italiano, per gli studenti civili, per gli studenti stranieri che insieme studiano, affrontano questi problemi con metodologie didattiche che non sono soltanto fondate sulle tradizionali lezioni frontali, ma che vedono l'interazione di gruppi di lavoro, vedono workshop, vedono simulazioni, vedono scambi culturali anche internazionali. Tutto questo nell'ottica davvero di dare vita a un'esperienza formativa, multidisciplinare, orientata ad affrontare insieme tematiche tra loro molto complesse nell'ambito delle scienze cosiddette dure, la matematica, la chimica, la fisica, ma anche delle scienze sociali, il diritto all'economia, la sociologia, l'antropologia, il management, ecco tutti ambiti nei quali i corsi di scienze strategiche mirano appunto a fornire conoscenze e competenze idonee appunto alla realizzazione di una classe dirigente capace di affrontare queste sfide davvero complesse. Generale, durante quest'ultimo periodo che ha fortemente segnato il nostro paese abbiamo visto personale dell'esercito intervenire al servizio della comunità. Quanto crede sia importante che la formazione del personale civile e militare avvenga insieme fin dai primi anni dell'università? L'esercito è sempre in prima linea nelle grandi emergenze nazionali e anche in questa ultima situazione ha fornito il proprio contributo insieme alle altre istituzioni per supportare la collettività. Oramai alle Forze Armate si chiede di garantire la sicurezza in ogni dominio ma del resto non possiamo più concepire una difesa ad unico appannaggio dei militari. La difesa deve essere un dovere condiviso perché tende al benessere del nostro paese e della nostra collettività, della quale siamo tutti responsabili. Anche questa volta è emerso quanto l'operato, costante e silente dell'esercito, abbia consentito di raggiungere importanti risultati. Ma questo è stato possibile solo grazie all'interazione tra le istituzioni e in particolare tra il mondo militare e il mondo civile. A tal proposito sottolineo poi come sia fondamentale che anche la formazione venga progettata e realizzata insieme e di quanto sia indispensabile costruire una cultura della difesa, soprattutto in un mondo in rapido cambiamento, con minacce inedite e sempre più complesse. Ecco, qui a Torino alla Scuola Universitaria di Scienze Strategiche si è creato un modello formativo efficace, valido tanto per i nostri ufficiali, tanto per i frequentatori civili. Il mondo dell'università, che è il mondo dello studio, il mondo della ricerca, il mondo della progettazione, si è incontrato con il mondo militare, che è il mondo della professionalità, il mondo della concretezza, il mondo del fare. Da questo connubio è nato un pragmatismo, che è quello di preparare personale che possa scomporre, comprendere quelli che sono i problemi attuali nel nostro mondo e, nell'ottica del problem solving, sabbia cercare anche delle soluzioni efficaci ed efficienti. Verso queste figure professionali, che sono tanto militari quanto civili, c'è sempre un maggiore interesse anche da parte del mondo del lavoro e, in particolare, del mondo finanziario. Immaginate la capacità di poter disporre di analisti, così come vengono formati in questa scuola, che abbiano l'abilità predittiva di comprensione di quelli che sono i fenomeni che si stanno verificando in un determinato paese, dove magari si vorrebbero fare degli investimenti. E quindi intuire quale possa essere il futuro o lo sviluppo economico e sociale di questo paese. Sapere interpretare questi fenomeni può costituire un importante elemento informativo, ad esempio, per chi desideri fare questo tipo di investimenti. e questa è una cooperazione felice che si è realizzata qui a Torino e per la quale vi è sempre una maggiore attenzione, un maggiore appetito anche da parte del mondo del lavoro in termini occupazionali. Professoressa, quali sono secondo lei le caratteristiche fondamentali per una formazione che sappia fornire strumenti adeguati per rispondere alle nuove sfide? Le caratteristiche per una formazione adatta a gestire situazioni complesse sono caratteristiche che potremmo dire altrettanto diversificate delle situazioni in cui questi professionisti si trovano ad operare. Le situazioni in cui sono chiamate ad affrontare problematiche varie gli operatori della difesa e della sicurezza sono, come dire, caratterizzate da una elevatissima diversità di situazioni e di componenti. E quindi anche la formazione per rendere questi operatori adeguati deve avere, potremmo dire, altrettante componenti. Quindi è un complesso multidisciplinare che porta ad acquisire delle conoscenze, delle capacità in vari campi, in campo sociologico, in campo antropologico, in campo politologico, diplomatico, così anche come nei campi della negoziazione, della mediazione e delle relazioni interculturali. A queste capacità di applicazione di strumenti di analisi e di comprensione di ambienti complessi si intrecciano altre abilità. Allora, le prime sono tutte competenze che derivano da discipline scientifiche. Occorrono però anche delle abilità, potremmo dire abilità tecniche, è un termine riduttivo, delle skills di tipo relazionale, come la capacità di lavorare in gruppo, capacità di problem solving, competenze comunicative e anche una consapevolezza culturale, che è quella che rende possibile la comprensione tra culture diverse. Con una formazione di questo tipo, che si alimenta attraverso lo studio, ma attraverso anche l'applicazione, le esperienze, il confronto, si crea un orientamento cooperativo. Ed è questo che, al di là di indicazioni di principio che mettono in primo piano una propensione alla collaborazione, occorrono delle competenze adeguate, degli strumenti che generino attività basate sulla cooperazione. Ringrazio i gentili ospiti e ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito. Ringrazio i feste